Stati rimborsati o riconosciuti dai sistemi di garanzia dei depositi possono reclamare il rimborso dei loro depositi. Quindi, siamo proprio dicendo al Governo, il Governo limita il tempo entro il quale un correntista può chiedere il risarcimento. Ma ci rendiamo conto? Dovrebbe essere infinito questo tempo, infinito. Noi abbiamo, dopo un altro annunzamento, lo abbiamo posto a dieci anni. Ma che cosa vuol dire limitare? Lo limiterete a un anno, un mese, cinque giorni, cinque ore? Eh? Lo vorrete limitare questo tempo? È una cosa vergognosa, Presidente, vergognosa. Il legislatore europeo ci dà la possibilità di migliorare questa direttiva, si sta facendo totalmente l'opposto. Grazie. Ringrazio, deputato. Allora, deputato Causi, prego. Sì, Presidente, solo per far sapere all'Aula che in base all'attuale legislazione italiana, decreto legislativo numero 385 del primo settembre del 1993, questo tempo oggi in Italia è 20 giorni. Grazie. Ringrazio. Allora, deputato Villarosa, a titolo personale, prego. Sì, a titolo personale, anche io voglio far sapere qualcosa all'Aula, che gli Stati devono mettere delle misure all'interno che non siano ostative rispetto alla direttiva. Quindi quello che ha detto il collega Causi è assolutamente falso, Presidente. Grazie. Mi ringrazio. Allora, se nessun altro chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione. Siamo al 7.9, Pesco. Mongelli. Della Ringa. Palese. Palese. Caso. Fanucci. Fanucci. Midelli.